È stata globalmente bella, drammatica verso la fine, nel senso che quando io sono partita Ebola non era ancora così diffusa. Io sono partita a giugno, verso metà della mia esperienza i casi sono stati, hanno cominciato a diventare numerosi e quindi non soltanto i morti diretti per Ebola, ma anche le mamme, io sono un'ostetrica, le mamme che non venivano più a partorire per paura di infettarsi e morivano nei villaggi, muoiono nei villaggi di parto e i bambini che non vengono più portati in ospedale per la stessa paura che muoiono di malaria, di malattie banali.